Presidente, prima giornata con un grande incontro. Sì, un grande incontro, è stato molto positivo. Noi come Scania crediamo nell'ecosistema, crediamo che per la sostenibilità, la sicurezza e per il bene del trasporto si debba lavorare tutti insieme in questo mondo così complesso. Abbiamo radunato qui l'Università di Milano, la Brebemi, i giornalisti, poi sono stati praticamente condotti dalla Maria Concetta Mattei, bravissima che ci ha aiutato in questo tipo di percorso. Sappiamo che il trasporto è fondamentale per il PIL del nostro paese, pensiamo che debba crescere, pensiamo che deve essere in evidenza nella maniera giusta e quindi continueremo su questa strada spingendo e cercando di mettere sempre più al centro dell'attenzione dei nostri politici il sistema trasporto. Se vogliamo crescere abbiamo bisogno di una logistica forte, quindi abbiamo bisogno di lavorare tutti insieme, da soli non si fa nulla. Grazie Presidente. Seconda giornata in Casascania con Giancarlo Perlini.